Allora, siamo a 18-27, che è 7-27 ora a 6, quindi vado a dove parla. Passo a 23. Abbiamo un investimento di Stato presentato, appartito di un gastro, e che è stato presentato, e che è stato rischiato, siccome adattarsi, allo settore a decicente competente e in maggioranza di direzione europea. Ci ha avuto una paese da parte di questi studi, che è stato permesso a tutti i consiglieri che non ha, con una di meglia di legno e di legno. Per cui, l'altro che in parere è un meccanico sia da parte del suo dirigente sulle cose, che da parte del loro e non direzione, se qualcuno vuole interventi che non si ne ha avvalutato. Grazie. 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 Grazie.